Il dibattito di questa sera prende le mosse da una campagna, da un percorso che è nato proprio qui a Padova nel corso di questa stagione sportiva e che si chiama We Want to Play, nessuno è illegale per giocare a pallone. Questa campagna che abbiamo lanciato appunto come San Precario, che poi ha avuto una caratura però subito nazionale, ha come ambito teorico ampio la rivendicazione dell'accessibilità allo sport come diritto universale. Come vertenza specifica si concentra invece su alcune norme del NOIF, che sono le norme organizzative interne della FIGC e sono delle norme, l'articolo 40 del NOIF in particolare, che limitano in maniera arbitraria e priva di un effettivo valore giuridico, limitano il tesseramento degli atleti provenienti da paesi extra EU all'interno dei campionati calcistici. Ma al di là di entrare nel merito di queste norme, anche perché secondo me parlare di comma, parlare di numeri è alquanto noioso, e invece rimandando a degli articoli si disporta la rovescia in cui le norme in questione, la comma 1.1 e la comma 1.2, sono spiegate a fondo. Per capire secondo me la gravità dei limiti discriminatori che queste norme pongono sui tesseramenti degli atleti stranieri, faccio un esempio che poi abbiamo vissuto noi quest'anno giocando a pallone. Noi siamo in terza categoria, che è il campionato più basso sul piano dilettantistico. In realtà siamo fortissimi, è che ci piace rimanere lì e perdere le finali soprattutto. Ma il fatto serio è che ci sono quattro ragazzi che sono venuti a giocare da noi, quattro ragazzi provenienti appunto da paesi extra EU, e per dei vincoli burocratici da niente, ad esempio la data di scadenza di un permesso di soggiorno, il fatto di avere un domicilio invece che la residenza, si sono visti impedire la possibilità di giocare nel nostro campionato. Questo significa che quattro persone di 20 anni, 25 anni, alcuni con un contratto di lavoro anche a tempo indeterminato, c'è cose che io in questo momento mi sogno, si allenano e sudano tutta la settimana a fianco a te e poi la domenica tu sei costretto a dirgli tu non puoi giocare perché sei maliano, tu non puoi giocare perché sei ganese, tu invece che sei italiano puoi entrare in campo. E questa è una questione che alla fine, forse esagero quei termini, però davvero ricorda una sorta di apartheid, soprattutto quando è applicata a campionati dilettantistici in cui non ci sono i mezzo, business, anzi quando si sale sul mainstream qualche modo di superare queste discriminazioni si trova sempre. Qui invece nei campionati dilettantistici queste beghe burocratiche impediscono a decine, centinaia, forse migliaia di aspiranti atleti di prendere parte ai campionati. Quindi partiamo da questa campagna in realtà per poi provare a costruire nel nostro piccolo un'analisi dello stato di salute del sistema calcio in questo momento in Italia, partendo dal parallelismo che a mio parere è sempre vivo, che quando in questo paese si parla di pallone si parla contemporaneamente anche della società e quindi i fantasmi, le contraddizioni, le paure che noi vediamo sotto i riflettori in tv appunto quando si parla di calcio sono le stesse fantasmi, le stesse paure, le stesse contraddizioni che poi alleggiano nelle strade delle nostre città. E quindi proviamo a fare questa analisi breve approfittando degli ospiti illustri che vado a presentare. Alla mia sinistra c'è Carlo Balestri, WISP nazionale e mondiali antirazzisti, c'è Giuseppe Ruzza, presidente del Comitato Territoriale Veneto della FIGC, e c'è Jacopo Tognon, avvocato e docente di diritto sportivo europeo all'Università di Padova. Cominciamo quest'analisi, considerando che appunto fanno un'analisi del sistema calcistico italiano ci vorrebbe un intero corso universitario, questo non lo dico a caso ma è una quaglia che sparo al docente, appunto il punto concreto è proprio questo, l'articolo 40, perché questo articolo che ci ha permesso di rendere vertenza una campagna, una riflessione, la rivendicazione di un diritto universale, riassume tendenzialmente a mio parere la retratezza del sistema legislativo italiano nel normare il campionato di calcio.